Dopo un giorno intero a Roma c'è solo una cosa che ti viene da fare Bere un buon tè Ma i romani apprezzano un buon tè, secondo voi? Adesso vediamo Dobbiamo parlare di una cosa importante poi Lei si deve sposare Lui è il papà Lei entra e lei dice No, anzi, lui dice Non adesso, per ora faccio io Non are Are you happy? Fai a Perché l'r non c'è Sei felice? E lei Si, lo sono What about you? About qua è riguarda I want to talk about Downton Abbey Voglio parlare riguarda o di Downton Abbey In questo caso lei dice I am What about you? È riguarda te E tu? E lui dice I am so happy Sono così felice So very happy Così tanto felice I feel Importante sentire F-E-E-L È feel Feel Non feel Perché feel è riempire I feel My chest Will Mio petto Scoppierà Will explode Ok? Allora Adesso Guardiamo cosa succede But E' finito? Oh che peccato! Oh che peccato!